ultimamente ci ho preso gusto a venire qui alla pista azzurra a borgotecino comunque partiamo subito con la sigla perché oggi sono in compagnia di un paio di persone ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono i miei bike ci troviamo sulla pista azzurra qui al castelletto borgotecino sullo sfondo la pista e le moto private che girano quindi già l'aria che si respira è veramente bella il caldo è torrido siamo venuti qua con un paio di persone uno in particolare che da un po' che non metto sui miei video è da dietro di chi mi sta guardando il buon Flavio Ceci che tra un po' vi vado a presentare e oggi siamo venuti qui perché dopo tanti anni che non ci veniva l'ho voluto tirare di nuovo in baglio quindi oggi ragazzi faccio la sfida ignorante sui cast e non vedo l'ora di prepararmi eccoci qua con il mitico Flavio Ceci sai quanto è che non venivi in questa pista? dieci anni almeno dieci anni ragazzi ultimamente sono venuto ho già fatto altri due video qua ve lo lascio in alto a destra per i consigliati noi oggi andiamo a provare un po' quello che c'è il repertorio e siccome che lui era dieci anni che non veniva qua ho detto io ma chissà se può partire un po' la sfida ignorante con il Flavio Ceci faremo dei test e vediamo un attimino com'è questo nuovo tracciato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bene bella prova sono arrivato primo nella Manche sono andato più veloce di tutti oggi la temperatura tradisce un po' avevo tanto sottosterzo però bilanciandomi sono riuscito comunque a controllarlo adesso vediamo di prepararci per un altro turno comunque la pista oggi è molto divertente si sta un po' più freschetti è arrivato un po' di menticello quindi è bella sto migliorando sempre di più piano piano arriverò al tempo del mitico Ceriani è un po' più fresco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, siamo qui con Matteo Renzi. No, proprio lui no. Prima volta oggi, dai, impegnativa, però ha solo due secondi da me. Selettiva e molto tecnica anche. Ti mette molto alla prova le braccia ed è molto veloce. Conta molto la linea, quindi per quello che ti dico che è molto tecnica. Non è una pista particolarmente difficile e proprio nelle piste non particolarmente difficili emerge la tecnica. Sotto vi lascio tutti i link di THU a proposito. Così potete valutare anche voi l'inserimento di questo team che organizza gare a livello amatoriale completamente rental. Quindi alla portata di tutti. Andiamo a fare un giro in piste insieme, dai. Andiamo a fare un giro. 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 Andiamo a fare un giro.